Brutte notizie in arrivo per Maria Fernandez, che nelle puntate della promessa in onda dal 16 al 20 settembre verrà cacciata dalla tenuta. Sarà Cruz a licenziarla, non prima di averla accusata di aver rubato un prezioso orologio di Lorenzo. Inoltre la Marchesa pianificherà l'omicidio di Curro con l'aiuto di Lorenzo dell'amata. Cruz licenze Maria Fernandez dopo averla accusata di furto. Maria Fernandez recupererà le forze dopo il rapimento e tornerà al lavoro. Sarà preoccupata per la presenza di Vera e avrà timore che la nuova arrivata possa rubarle il posto. Iana si allontanerà sempre più da Manuel e il ragazzo non capirà le motivazioni di tale comportamento. Romulo informerà tutti del furto dell'orologio di Lorenzo dalla sua stanza. Le indagini portate avanti dal maggiordomo faranno ricadere i sospetti su Maria, visto che è stata lei a rassettare la stanza di Della Amata il giorno del furto. Petra non crederà alla colpevolezza della domestica, ma Cruz la chiamerà e senza tanti giri di parole le comunicherà il licenziamento. Cruz pianifica l'omicidio di Curro. Petra e Feliciano si riconcilieranno, e la governante ringrazierà Pia per aver fatto da mediatrice. Cruz e Lorenzo continueranno a tramare contro Curro, la Marchesa vorrà pianificare l'omicidio del nipote. Secondo il piano, tutto dovrà sembrare un incidente e dovrà avvenire durante la battuta di caccia che si terrà di lì a breve alla promessa. Maria Fernandez, dopo essere stata cacciata, troverà rifugio nella vecchia casa di Ramona. Iana andrà a trovarla, non solo perché sentirà la sua mancanza, ma anche per risollevarle il morale. Abel cercherà di scoprire chi sia il vero responsabile del furto di cui è stata accusata Maria, mentre Feliciano chiederà aiuto a Romulo per fare la proposta di matrimonio a Teresa. La promessa cambia orario dal 23 settembre. Per tutta l'estate la promessa ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5 tutti i pomeriggi, compresi i festivi. A partire da inizio settembre qualcosa è cambiato, visto che la sopa è stata sospesa nei weekend per lasciare il posto agli episodi inediti di Endless Love. Un ulteriore cambiamento lo si vedrà a partire da lunedì 23 settembre, quando torneranno su Canale 5 uomini e donne il day time di amici. A causa di questo, l'orario di inizio della promessa slitterà alle 16 e 40. In onda fino all'inizio di pomeriggio 5, le puntate avranno un durata di soli 20 minuti.